In esclusiva nazionale è un grande evento di sport da combattimento di Mixed Martial Arts, ovvero MMA, Arti Marziali Miste, oggi nel capoluogo al Palapergola di Rossellino, promosso dal Comitato Asi Basilicata con il patrocinio dell'assessorato allo sport del Comune di Potenza. Innanzitutto grazie, grazie della collaborazione siete sempre preziosissimi. L'evento è un evento di MMA, è la prima volta che viene fatto a Potenza. L'MMA Mixed Martial Arts è una disciplina che si svolge l'attività vera in una gabbia, quindi abbiamo montato una gabbia su un rialzo di un metro e oggi alle 17 al Palapergola iniziamo con 9 match. Il programma è molto importante anche perché gli atleti vengono un po' da tutta Italia. Ci sono 4 atleti romani, un torinese, uno di Treviso, un siciliano, 3 campani e 3 pugliesi. Spero di non aver dimenticato qualcosa. E c'è anche un lucano, un ragazzo lucano, un ragazzo di Banzi. L'evento nasce dalla collaborazione di Asi, quindi il Comitato Regionale della Basilicata, la LIMMA che è la Lega Italiana per quanto riguarda l'MMA e due società sportive affiliate ad Asi che sono l'AS di Sparta e la Spartan Academy. Un evento a ingresso libero. Intanto è immattinata la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e la cerimonia del peso per l'attribuzione e la verifica da parte della Commissione Atletica della categoria di appartenenza dei singoli sfidanti. C'è il nostro main event che è un evento professionisti, tra due professionisti, tra Freguglia Alessio e Rega Giovanni che sarà l'ultimo match che concluderà la manifestazione. Quindi questo è un po' il programma. Chiuderemo alla grande con questi due grandi atleti di questa disciplina. Qualcosa comunque di mai visto prima a potenza, come vi è venuto in mente? Da dove è nata questa iniziativa? È nata dalla collaborazione con le due società sportive che praticano MMA nella loro palestra. Hanno sempre fatto attività al di fuori della Basilicata, quindi da gare a Roma, gare internazionali a Basilea, gare internazionali in Marocco, gare internazionali in Spagna e ovviamente perché no, perché non farle a potenza. Quindi lascia da questo l'esigenza, l'idea. Poi l'abbiamo sviluppata e ringraziando di che ci siamo riusciti.